Allora, continuiamo il discorso sul fascismo. Noi eravamo arrivati all'assassinio di Matteotti, anzi al discorso pronunciato da Mussolini in 3 gennaio del 1925. Un discorso alla Camera con cui Mussolini si assume tutta la responsabilità dell'assassinio di Matteotti. Quindi dichiara apertamente, soprattutto agli oppositori politici, che ad essere il mandante dell'omicidio di Matteotti è lui. Da questo momento in poi si dice che Mussolini getta la maschera e quello che voleva essere, almeno apparentemente, un governo democratico diventa un regime autoritario. Appunto abbiamo la svolta autoritaria. Per cui tra la fine del 1925 e tutto il 1926 vennero emanate le cosiddette leggi fascististiche. Cioè le leggi del codice Rocco, perché Rocco era appunto il ministro della giustizia, leggi volte intanto a, diciamo, eliminare la separazione dei tre poteri, esecutivo, legislativo e giudiziario, dare tutto il potere all'esecutivo, tutto il potere a Mussolini, in maniera tale da creare di fatto una dittatura. Infatti il capo del governo, cioè il presidente del consiglio, cioè Mussolini, non si chiama più così, ma si chiamerà segretario di Stato e sarà responsabile delle sue scelte politiche solo di fronte al re e non più davanti al Parlamento. Quindi il Parlamento viene, diciamo, esautorato da ogni funzione, sia legislativa sia decisionale, perché il capo del governo non deve più rendere conto al Parlamento. Il Parlamento rimane in piedi, pro forma. E quindi tutta la facoltà di emanare leggi viene data al governo. Cioè il governo si assume il potere esecutivo e il potere legislativo. Poi i prefetti, allora, ai prefetti, i prefetti diventano di nomina governativa, cioè nominati da Mussolini. Ai prefetti vengono dati ampi poteri, anche polizieschi, come anche a livello comunale. Viene cambiato l'ordinamento municipale, perché al posto del sindaco, che in alcuni comuni veniva eletto dai cittadini, abbiamo il potestà, sempre di nomina governativa, con pieni poteri, anche polizieschi. Va bene? Tutti i partiti e movimenti di opposizione al fascismo vengono sciolti e anche i deputati che erano stati eletti al Parlamento vengono dichiarati decaduti. C'è obbligo per tutti i dipendenti pubblici, quindi i magistrati e anche i magistrati, di iscriversi al partito fascista. Quindi se i magistrati sono obbligati a iscriversi al partito fascista, significa che la magistratura dipende dall'esecutivo. Giusto? Per cui, ecco, non esiste più separazione dei tre poteri. Non solo, ma anche gli insegnanti, sia gli insegnanti, diciamo, proprio delle scuole, sia gli insegnanti universitari. Sono obbligati a iscriversi al partito fascista, pena, il licenziamento, e non solo il licenziamento, anche l'immarginazione, la violenza, in alcuni casi anche il carcere, eccetera, eccetera. Infatti viene istituito un tribunale speciale per la difesa dello Stato, un tribunale che ha, diciamo, il compito di incriminare gli oppositori politici. Incriminarli, processarli per direttissima e anche, in casi gravi, condannarli anche alla pena di morte, perché viene ripristinata la pena di morte. Viene creata personalmente da Mussolini una polizia segreta, l'Ovra, nel 1930, che non sta per una sigla. Non si capisce per cosa stia. Molti hanno sottolineato l'assonanza con Piovra, a dire che i tentacoli di questa polizia segreta, diciamo, avrebbero, si sarebbero stessi per tutta l'Italia e anche oltre l'Italia, perché la polizia segreta aveva il compito di scovare gli oppositori al regime. Tra l'altro viene istituito il confino per gli oppositori politici, non solo il confino, ma anche il carcere. Viene soppresso ogni libertà di opinione e di stampa, tanto che a capo dei giornali, dei quotidiani, vengono scelti dei direttori fascisti. Tra l'altro, adesso Mussolini vuole un Parlamento monofascista e quindi fa una cosa che, voglio dire, la legge acervo era nulla in confronto. Nel maggio del 1928 viene proposta una lista unica nazionale di 400 candidati, tutti fascisti, designati dal Gran Consiglio del Fascismo. Praticamente viene proposta questa lista bloccata di 400 candidati con una consultazione plebiscitaria che viene fatta il 24 marzo del 1929. Che significa consultazione plebiscitaria? Perché chi andava a votare doveva praticamente votare o sì o no. Guardate qui, vi faccio vedere un'immagine, ecco qua. Questa è un'immagine di propaganda che si trovava a Milano. La faccia di Mussolini con il sì, come se fosse una consultazione democratica, perché in realtà non lo era. Perché, allora, le liste, le due liste, quella del sì e quella del no, erano facilmente riconoscibili. Perché quella del sì aveva la bandiera italiana, quella del no era bianca. Quindi chi votava no si vedeva, perché aveva in mano la lista bianca. E quindi, ecco, dopo uscito l'asseggio, sicuramente sarebbe stato vittima delle violenze fasciste. Ecco, se fosse stato pestato, ecco, gli sarebbe andata bene. Quindi solo pochissimi, un per cento, ecco, ebbero il coraggio di votare no. Tutti gli altri votarono sì. E dal 26 in poi Mussolini curò tantissimo la sua immagine, tanto che si fece chiamare Duce, dal latino Dux, perché, allora, aveva due significati. Il Duce, il Dux, in latino, era il comandante militare, no? E' il comandante dell'esercito. E diciamo che lo stato fascista aveva una, diciamo, un'immagine anche molto militaresca. Detto questo, ecco, Mussolini voleva essere il Duce perché voleva essere la guida, la somma guida per l'Italia. Si diceva, uno degli slogan che si diceva in questo periodo era, Mussolini ha sempre ragione. E poi Duce perché si ispirava all'antica Roma, perché Mussolini si vantava che voleva riportare l'Italia alla gloria dell'impero romano. Detto questo, appunto, la propaganda fascista passava attraverso la stampa. Abbiamo detto che la stampa era totalmente controllata e spesso tra le redazioni dei giornali passavano le cosiddette veline. Cioè, il governo stesso mandava un'informativa al giornale su come doveva trattare la notizia. Spesso anche, diciamo, suggerendogli anche il titolo di testa. Poi, soprattutto negli anni 30, Mussolini scoprì la radio attraverso l'EIAR, cioè l'ente italiano per le audizioni radiofoniche. E quindi i discorsi di Mussolini venivano trasmessi attraverso la radio. Addirittura c'erano delle postazioni pubbliche della radio e quindi si sentiva il vocione di Mussolini per le strade dell'Italia. E poi attraverso il cinema, perché il cinematografo era, diciamo, molto importante. Non c'era ancora la televisione, quindi per passare le serate spesso si andava al cinema a vedere un film. E soprattutto dopo l'advento del sonoro ci fu l'Istituto Duce, il quale proiettava i cinegiornali all'inizio, durante e alla fine dei film, che erano dei giornali, però dei giornali di propaganda fascista. Mussolini si preoccupò anche di reggimentare la scuola con la riforma del filosofo Gentile, che era allora ministro dell'istruzione. Una riforma che comunque era molto valida, tanto che diciamo che l'ostatura di questa riforma rimane tuttora. Però, ecco, doveva avere anche lo scopo di reggimentare la scuola, perché infatti dal 26 i ragazzi dai 6 ai 18 anni venivano organizzati, quindi chiunque andasse a scuola, dalla scuola elementare fino ai 18 anni, fino al liceo, veniva reggimentato nell'Opera Nazionale Barilla. Era una struttura parascolastica in cui venivano, diciamo, i reggimentati ragazzi a seconda della classe frequentata e quindi dell'età e venivano, diciamo, istruiti in spettacoli ginnici e doveva infatti prepararli anche al servizio militare. Così vennero anche i reggimentati, gli universitari, appunto nei gruppi degli universitari fascisti. Vi faccio vedere un attimo i Barilla, andiamo avanti con la foto. Eccoli qua, questi sono dei bambini Barilla. Vedete, con i loro esercizi ginnici. Allora, andando avanti, ecco, il fascismo reggimentò pure gli italiani nel dopolavoro, cioè nel tempo libero, con l'Opera Nazionale Dopolavoro, che organizzava il tempo libero degli italiani. E dal 37 in poi venne anche, diciamo, istituito il Ministero della Cultura Popolare, il Min Cool Pop, che praticamente doveva, ecco, controllare la produzione culturale, quindi artistica, letteraria, eccetera, eccetera. Tra l'altro, gli intellettuali non andavano d'accordo col regime, come si capisce, almeno tanti intellettuali, a parte quelli che si erano, diciamo, ecco, conformati. Infatti già nel 25, il primo maggio del 25, venne pubblicato il manifesto degli intellettuali antifascisti, voluto fortemente dal filosofo Benedetto Croce e tra i firmatari c'era anche il poeta Eugenio Montale. Però, ecco, gli intellettuali oppositori, ecco, col, diciamo, rafforzarsi del regime, ecco, avevano solo poche scelte, o andare in esilio, o scegliere la clandestinità, oppure essere, diciamo, incarcerati o mandati al confino. Per esempio, Antonio Gramisci, il segretario del Partito Comunista, venne condannato al carcere nel 26, si fece 11 anni di carcere fino alla morte in carcere nel 37. Andarono in esilio Filippo Turati e Don Luigi Sturzo. E ci furono anche molti antifascisti che vennero anche uccisi in esilio, come i fratelli Rosselli, che avevano, che si trovavano, diciamo, fuori Italia e che avevano organizzato il movimento Giustizia e Libertà e che vennero uccisi nel 37 da sicari fascisti. A Mussolini mancava l'accordo ufficiale con la Chiesa, perché se il Papa Pio XI aveva salutato Mussolini come l'uomo della provvidenza, insomma, aveva simpatie per Mussolini, però ancora non c'era l'appoggio ufficiale della Chiesa. Mussolini lo ottenne firmando l'11 febbraio del 1929 i patti lateranensi. Eccolo qua, ora ve lo faccio vedere, mentre firma i patti lateranensi con il segretario di Stato del Vaticano. Questi patti lateranensi dovevano sanare per sempre il conflitto tra lo Stato e la Chiesa che si era aperto nel 1870 con la conquista di Roma. Infatti, lo Stato della Chiesa, il Papa, riconosceva Roma come capitale del Regno d'Italia. A sua volta l'Italia lasciava al Vaticano quel mezzo chilometro quadrato di Stato e poi alcune agevolazioni per la Chiesa, come l'esonero dei sacerdoti da servizio militare, il cattolicesimo che diventava religione di Stato, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole e il matrimonio religioso che aveva valore civile. Va bene? Quindi diciamo che, guardate i giornali di allora come presentarono questi patti lateranensi, il genio di Mussolini ha superato ostacoli finora insolvontabili. E quindi lo storico conflitto tra Stato e Chiesa è risolto.